Sono Dyno! Ciao ragazzi! Perchè? Perchè? Ok, ciao ragazzi, oggi siamo qui con Cleverbot E iniziamo già benissimo E quindi cominciamo subito Ok, io femmine Io ma... Maschio Io maschio Punto Alla sera Lo 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 Io maschio Di sera No Ecco Io maschio di sera Femmina No Ho detto no Allora Erobrine Divenne Un Copricapo Cinese Erobrine mi sta guardando E vai! Control V! Ok ragazzi, vi chiedete cosa è questo? Niente, è soltanto un testo stupido che ho scritto Io voglio vedere cosa rispondo Maschio Si Non so cosa c'entra Sei? Femmina Si scrivi Femmina? Si Si Maschio? Si Femmina Si Come ti chiami? Femmina Femmina Sei da femmina Come ti chiami? Andrea Andrea Aspetta Mi chiamo Andras No aspetta Andrea Andrea Carla Ananas Di Pollo Oh Oh Quello caffè Qualcosa che c'è da col caffè Comunque Ah col caffè Fai scrivergli una cosa Ok Conosci Hitler Ieri mi hai rubato 50 euro Ma è comunque un simpaticone Vediamo cosa risponde a questo Io non ti ho risposto che so bene Eh Hai ragione Un secondo Proviamo a riprendere questo Vedere Control C Che dice? Ho sempre ragione Control V Stavo scherzando Eeeh Hitler Non Scherza mai Non scherza Mai Carina mia Hitler non scherza mai Addio Non Puoi Andare Perché sono un psico Io Chi lo dice? Io E tu chi sei? Hitler Hitler What is Hitler's last name? Con... Allora Io Ho un record mondiale Ho mandato 5.000 matite in 34 secondi That's Italian Oh Si Mi fa molto piacere Hitler Colpa Di Hitler Ahahahahahahah Ahahahahah 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 No Hitler Ragazzi Hitler No Si Maledetto Hitler Ma sei tu Hitler Dai Stavo scherzando un po' E non si scherza con Hitler No No Ass Sham No No Magometri Nonno, hai pure scritto! Dov'è? Nonno! Sì, 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 sì! No, nonno, nonno! Nonno, nonno! Nonno, no! Sì, tuo nonno te l'ha detto anche prima! Aspetta, dov'è? Il mio nonno pesa 50 tonnerla! Perché? Mio nonno è Hitler! Dove abiti? In... In Hitler! Enich! Perché? Perché non ve lo ero che si sta... Ma io sono